Ma se oggi non è troppo tardi, cosa possiamo fare per il nostro futuro? Questo è il nostro Green Deal Iniziamo dalle piccole cose Quando facciamo la spesa, invece di andare in un supermercato a comprare del cibo confezionato con la plastica che finirà negli oceani Andiamo al mercato di vicino e compriamo del cibo fresco Al mattino, quando prendiamo l'auto per andare a lavoro o a scuola, perché non prendere un mezzo pubblico e inquinare di meno? Rispettare la raccolta differenziata farà la differenza e l'ambiente ce ne sarà riconoscente L'energia del sole è un dono, non sprechiamola Il Parlamento Europeo propone uno stile di vita sostenibile Io sto con te, e tu?